Davide Mazzanti, allenatore della Nazionale Femminile, stamattina un confronto con i tecnici delle varie selezioni regionali, sicuramente costruttivo? Sì, è stato costruttivo perché comunque ci siamo visti a novembre per la prima volta, abbiamo costruito insieme un percorso con il processo selettivo che ovviamente si completa oggi ma è continuo, quindi è solo per analizzare un po' quello che abbiamo fatto e quali sono poi le linee guida per proseguire il nostro percorso. Le Kinderiadi, un appuntamento sicuramente importante per i giovani pallavolisti, una manifestazione di alto livello? Sì, sicuramente un'occasione sia di confronto ma anche per chiudere una stagione agonistica e quindi un po' una festa da pallavolo come si è visto ieri nella cerimonia d'apertura e quindi uniamo un po' sia al fatto competitivo che a quello di dare così per risalto alla nostra stagione agonistica. Da questa manifestazione sicuramente usciranno delle atlete e degli atleti che saranno poi il futuro della Nazionale, che livello si aspetta? Quello che ho già visto ovviamente durante i processi selettivi è già molto indicativo, ovviamente qui le vedo giocare e quindi non in corrispondimento ma nel contesto di gara. Mi aspetto di vedere un po' le cose che abbiamo portato avanti in questa andata insieme e sono anche curioso di vedere quali adattamenti nelle varie regioni avranno apportato al loro sistema di gioco. Grazie. Grazie. Grazie.